Scadrà martedì alle ore 13 il termine ultimo per i consiglieri comunali ripostesi di presentare gli emendamenti al bilancio di previsione 2016. Maggioranza e opposizione sono concordi in riva all'Oionio nello stabilire di voler chiudere la partita dello strumento finanziario già nella prossima seduta consigliare fissata per giovedì. La scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata votata ieri in consiglio comunale al termine della richiesta di chiarimenti sul documento unico di programmazione alla presenza del ragioniere capo Alfredo Spinella. L'impressione è che tra sette giorni si arriverà tranquillamente al voto sul bilancio. Per tutte le forze politiche è importante, per non dire fondamentale, portare a casa lo strumento finanziario. D'altronde PD e Forza Riposto hanno già avuto la loro vittoria con contrada a gancia e il voto sul bilancio rappresenta uno snodo importante anche per la maggioranza del sindaco Enzo Caragliano, che dopo lo strumento finanziario dovrà ascoltare i suoi senatori, i fratelli di Guardo, Nino Facchi, Michele D'Urso e Francesco Grasso. La testa di Antonio Di Giovanni è solo una delle richieste, ma quello che è certo è che dopo il bilancio si dovrà aprire una verifica di maggioranza che potrebbe arrivare anche fino a Natale.